La mia trappola per la spiritualità è stato superare l'egoismo e la visione egocentrica che in me aveva preso spazio per rendermi conto dopo un profondo lavoro interiore che l'egoismo genera una visione individualista e che la crescita spirituale non può essere un processo individuale, che ognuno di noi è un animale gregario che necessita della condivisione, dell'incontro con l'altro, del gruppo e il mio lavoro centrale nella mia vita è diventato cercare il gruppo, passare dall'io al noi per capire e comprendere che se volevo scoprire chi davvero sono, dovevo aprire il mio cuore e condividerlo con l'umanità che sincronicamente gli dèi, il mondo, l'universo mi ha fatto incontrare. Allora, quali sono le trappole della spiritualità? Intanto tutti passiamo dall'ego spirituale, pensare di essere al di sopra degli altri, di aver capito, di essere sulla strada giusta, pensare che a noi è tutto concesso perché abbiamo capito. Ed è un mondo, ma da sempre questo, dove le persone si montano la testa, dove le persone sfruttano economicamente le loro capacità, dove ci sono tanti operatori spirituali che abusano sessualmente delle loro adepte, economicamente, sessualmente, manipolandole. Quando una persona ti si affida, vale anche per gli psicanalisti e per i medici, quando una persona ti si affida, tu devi rispettare il transfer, perché la persona vede in te il padre, il maestro, la guida e quindi a volte si affida anche totalmente, ma non bisogna abusare di questo, questo vale anche per le donne ovviamente. Una delle trappole più grandi che ci sono in questo momento, il quale ho vissuto anche personalmente, è il fatto di leggere concetti, di sentire concetti spirituali o pseudo-spirituali, di nozioni esoteriche, di leggi anche esoteriche e antiche, e credere di essere già arrivato a realizzare quello che stavo leggendo. Infatti, l'altra trappola qual è? È che, come di conseguenza, questo tipo di comportamento è, diciamo, indicare le persone a cui va riferita questo tipo di informazione, cioè tutte le informazioni che troviamo nelle letture di Osho, di Gurdjieff, di Uspensky, di Gesù, in qualsiasi tipo di, diciamo, maestri, e dire queste cose non servono a me, servono alle persone che so io, cioè serve per esempio quello che dice Osho serve soprattutto a mia madre, e che cavolo, cioè io lo so che a un certo punto devo andare avanti, devo andare in giro per il mondo con il ricordo di, anzi, ripetendomi io sono all'interno e avendo la sensazione dell'io sono, però non serve a me perché io già lo so, già lo faccio, quindi serve a mia madre. Oppure, quando si parla del tantrismo, o di meditazione, o di centratura, o di meccanismi psicologici, eh cavolo, questi meccanismi li deve vedere la mia fidanzata o il mio fidanzato, non li devo vedere io, io li so già, e a me non toccano. Ecco, quella è una trappola, cioè, diciamo, scansarsi, levarsi di mezzo quando ci sono insegnamenti che servono, almeno quello che sto leggendo, quello che sto provando, quello che sto sentendo, serve solo a me. Se leggo dell'apertura del cuore, leggo della presenza dell'apertura del cuore, io non c'entro niente, io già faccio i miei esercizi di presenza, io già quando vedo il gattino provo amore, mentre quando invece la mia ragazza guarda un altro ragazzo, vado su tutte le furie, ma vabbè, ma quella non è una roba spirituale, però io faccio i miei esercizi, la mia ragazza, quando guarda l'altro ragazzo, deve accorgersi che non è centrata, che non ha aperto il cuore, perché se ha aperto il cuore non faceva così. No cavolo, quella situazione serve a me, non c'entra niente lei o lui. No cavolo, quella situazione serve a me, non c'entra niente lei o lui.